Lei è molto carino, molto gentile e non è proprio nel ruolo, perché il boss di solito è il cosiddetto fotente, si dice a Napoli, no? Quindi lei dovrebbe essere un po' più cattiva, invece la vedo così cortese. Sì, però il boss non ce l'ho tra i miei personaggi, io non sono capace di fare il boss. Almeno all'inizio faccio un pochino. Potrei, no, l'unica cosa è che col trio ho fatto il padrino, potrei fare il padrino. Va benissimo, il padrino, va benissimo. E poi ci vorrebbe il figlio del padrino con cui lui interagisce, Michael Corleone. Sono qui il padrino. Michael, sei venuto in versione a bonsai. Questa è la parrocchia. Dima una cosa, Michael. Ma perché mi hai portato qui in mezzo a questa minchiata? Poi, padrino. Ehi. Solo tu ti puoi permettere di giudicare tra i migliori di questi comici, tra quelli che verranno eliminati. Ma eliminati fisicamente? No! E allora che amassero a Loretta Gucci. Mi hai portato qui in mezzo a lui.